Milano, città tutta pietra in apparenza e dura, in realtà morbida di giardini interni, scriveva Alberto Savinio. Anche il palazzo di Mediobanca conserva nel suo cortile principale un'opera d'arte di eccezionale valore. È una cancellata artistica in bronzo, opera dello scultore Francesco Barbieri, artista italiano del Novecento. Fu realizzata per Mediobanca nel 1958 e servirono due anni di lavoro. La paternità della cancellata è attribuibile all'influenza della banca commerciale italiana, socia fondatrice di Mediobanca, che dal 1941 commissionò a Barbieri opere in molte sue filiali in tutta Italia. Meritano attenzione due opere in particolare, la Fontana di Roma del 1941 e l'orologio monumentale di Lecce del 1955. La prima campeggia al centro del cortile di quella che fu una sede romana della banca commerciale italiana, poi passata a Mediobanca. La seconda, un orologio monumentale, è quella che ha più legami con la nostra cancellata, sia per la tecnica che per i temi rappresentati, soprattutto quelli zodiacali. In Mediobanca si conservano anche altre opere di Barbieri. Enrico Cuccia ne teneva una nel suo ufficio, una testa, chiamata il Pretino, che teneva vicino alla sua scrivania. Il Pretino doveva far parte del suo quotidiano, da così tanto tempo, che lo ritroviamo su un appunto lasciato a Cuccia per ricordargli un colloquio telefonico con fummi del Banco di Roma. Anche Enrico Cuccia scarabocchiava mentre era al telefono. Grazie a tutti.